L'administrazione regionale tiene talmente in considerazione questo problema, il quartiere di Ponte San Giovanni, che non solo oggi, tramite l'ater braccio operativo, va alla demolizione di edifici che non si sarebbero mai dovuti costruire. Ma lo ricordo, abbiamo aperto la tratta Ponte San Giovanni-Sant'Anna dell'FCU, riapriamo l'intera FCU, ma abbiamo presposto il progetto del nodino e tra pochi giorni avremo il progetto già finanziato per la stazione aeroporto, che sarà l'antenna fondamentale per una metropolitana di superficie con ellera per ridurre il traffico. E non solo, aggiungo l'ultimo dettaglio, tra pochi giorni cercheremo di chiudere con il Comune di Perugia l'idea richiesta dal Comitato degli Abitanti di Ponte San Giovanni per andare a riqualificare il parcheggio della stazione, che è utile non solo per i viaggiatori, ma per l'intero abitato. Un programma estremamente complesso, credo una visione veramente strategica, che stiamo dimostrando non con i convegni, come avveniva una volta, ma con i fatti estremamente concreti.